Benvenuti a bordo della mia nave, sono il professor Adamaro Maroncelli, il segno al liceo Massimo dell'Amo di Torino, ma voi chiamatemi pure Spartacus. Non lo so che c'è azzicchi Spartacus? Non l'avete comandato Marcos. Ieri ero Marcos, domani posso soggiorare, sono fatto il mio domenico, sono io il professore o no? Finalmente ce l'avete fatta, sono due giorni che vi stavamo aspettando. Il tesoro dov'è? Ma quale tesoro? L'avete lasciata a terra, l'avete un bucicato. Ma voi non siete gli emissari della giovane Italia? No. E che cazzo siete loro? Io sono Dalvin e io Danette. E chi sono qui? No, avevamo babbato un maiale e i cuzzai del sultano ci inseguivano. Non l'ho capito, che stanno dicendo? Sono l'altro da Polop. Da Polop? Da Pololi, non da Polop. Abbiamo sprecato Fior do Ballotto per salvare tuo ladro da Polop. Io ho riscato la vita e vestito i fidetti e me. Vabbè, questo sarebbe il bello tutto alla mare e va a fare... No, a mano! 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 Ho cambiato idea! Potrebbero esserci utili come mezzo a Maranai. Vai! Questo non è una procedura! Vai, ehi! 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 Ma vinciato! Che pabbi sono? Vai, vai! Portare via! Sù! Muove il cuore! Ciao, ciao.